C'è il solito spazio per Turam, prova ad accelerare palla al piede, va per il cross e c'è il gol del pareggio della Juventus, un gol di Maresca che poi va a mimare le corna del Toro a modi scherno ed è il gol di un pazzesco 2 a 2, signori benvenuti al derby della Mole abbiamo detto sempre troppo spazio a Turam, ma poi il cross lo mette bene, l'ha messo bene ha staccato alla grande, grande frustata, qui non c'è arrivato Bucci, questo è un bel gol poi il gesto che ha fatto dopo la pazzina nel Torino mi è piaciuto poco